Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovo video Oggi siamo qui con Andrea Ciao E guardate la mia skin Allora mi sono scioppato questo pacchetto Ovviamente l'avevo dovuto copiare Non si vedrà Però ho scioppato questo pacchetto E zaino Più piccone e V-Bucks V-Bucks raga Quindi ora ci andremo a scioppare Il pass Andrea se ne è andato non sa il perchè Ma lo stiamo per scioppare insieme 3 2 1 Abbiamo scioppato il pass per la prima volta Raga finalmente Finalmente Guardate quante cose Guardate Guardate Allora ragazzi Usciranno molti bei video Finalmente che ho scioppato il pass Quindi questo è tutto ci vediamo al prossimo video Ciao